Ciao a tutti ragazzi ben ritrovati qua sul canale di battleforgames Io sono Carlo e oggi siamo qua tornati per fare un nuovissimo gameplay ragazzi sulla playstation 4 Oggi infatti ci troviamo su GTA 5 ragazzi Ragazzi è un gioco fottutamente epico Io ci ho giocato un po' sulla play 3 ma veramente poco rispetto a quello che ci sto giocando adesso sulla play 4 Ci ho già praticamente nerdato un poveriggio intero, è uscito ieri e ci ho nerdato tutto ieri Praticamente sono un nerd, adesso siamo online finalmente Che sono riuscito ad installare quella famosa patch perché non so se anche voi avete avuto il mio problema Ma io non riuscivo ad installarla quindi adesso finalmente sono riuscito a connettermi a GTA Online Sono al rango 6 se non sbaglio, non è questo, non mi ricordo mai come cavolo si controlla il rango Non lo so, vabbè, mi sa che dentro il garage non si può fare Ah no ecco così sono al rango 6 ragazzi, sono ancora un po' un abbetto Ma piano piano ragazzi magari livelliamo un po' insieme ragazzi Queste sono le mie macchine intanto questa qua, questa qua ragazzi di blu per me è una figata assurda Me la sono appena fatta, ci ho speso un casino Per ora ho 800, no meno perché adesso ho speso per la macchina Ho tipo speso 100.000 dollari per la macchina per upgradeare la macchina Secondo me è Tamarra a buco ragazzi Infatti prendiamo subito questa E propongo Anzi no sapete cosa ragazzi, dato che ci tenga questa macchina Per fare quello che voglio fare oggi non va bene Quindi prendiamo questa macchina qua E andiamo a fare un po' di macello in giro ragazzi Giusto per fare il primo video che mi sembra doveroso andare a fare un macello un po' in giro Ad esempio cerchiamo di arrivare almeno 3-4 stelle E di far fare un po' di polizia Dai ragazzi Prima stella è arrivata Andate già A posto Adesso Adesso aspetta la polizia La polizia Che arriverà spero a tempi brevi Anzi ci vado incontro Eccola là Giuro che la devasto ragazzi Faccio un macello e faccio arrivare anche gli elicotteri Dov'è? Qui sotto Dai Ti vedo sulla Eccola Là Regà Voglio due stelle almeno Aspetta che scendo Mi uccideranno subito Quando ci fate ragazzi che mi uccideranno subito? Abbassati Ok Tu vuoi morire? Tu sei morto Anche tu vuoi morire? Tu sei morto Vedi? Basta chiedere Ho abbiangato le stelle ragazzi Io mi fotto la macchina della polizia Vai Stanno arrivando Scappa Fugatela Eccola Ci avviamo indietro Frena La Cerchiamo magari di fugarci E di radunarci Già anche l'elicottero Raduniamoli tutti in un punto Poi facciamo il macello Ok non così però Non me ne ero accorto Perché stavo guardando il radar Lol Andiamo tipo qua Dite che ne abbiamo abbastanza dietro Perché secondo me si Tre stelle Andiamo dentro qua Mi sa che mi sto chiudendo però qua dentro Ho fatto la cagata della vita No Fuga Addirittura la camionetta Potente Ok Raga io mi fermo qua Siete pronti? Dai Scendi Vai 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 Andiamo sul tetto Si può andare sul tetto? No Si che si può andare sul tetto Vai Muoviti Vecchio muoviti Fatemi sapere come vi sembra il mio personaggio di GTA V Perché secondo me È un figlio di armandona Guardatemi No dio boccia l'elicottero Fuga Ok Dove uccidere più l'elicottero? Dov'è? Stanno arrivando secondo voi raga? Stanno salendo le scale Uno è morto Stanno arrivando Tua madre Non l'avevo visto questo Aia Questo qua proprio mi ha fottuto in pieno E' un po' di macchina Vieni la macchina Dai Ok Ci sono a piedi Sì che a piedi dove vogliono andare Proprio E sono finiti Voglio avere almeno 4 stelle Ragazzi Voglio vedere se riesco a fugarmela Proprio Fugarmela Provandola a piedi Perché se non è impossibile Secondo me Dove è la macchina? Eccola Eccola Voglio le 4 stelle Sono anche senza voce oggi ragazzi Ma pesantemente proprio Mi sa che tra un po' arriva l'elicottero Bam Devo devastare il mondo No mi stai già perdendo Regà Ma che cazzo è? Dove andate? Sono qui Vi suona anche il clacson Eccoli Eccoli Sono dietro Fate del macello Beh è lisciato vecchio Vedete Guardiamo se riuscite a prendermi Ne vi aspetto anche E Pensavi è La Frontale Sbam Dovevi ucciderli Dalla macchina Fuga 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 Il macello ragazzi È il macello questo Ho la macchina rotta Oh che cazzo La macchina è impennata Avete visto? L'ho vista solo io Oh mio dio Dai Ho la macchina rotta ragazzi Quasi Vieni qua Mi dispiace Non volevo uccidervi Però sono un civile Molto poco Civile Quindi Ok Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vedete che c'è l'elicottero qua sopra Mi sa di Sì beh Sì perché mi stanno sparando Vai 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 Io li aspetto Là è un altro Ancora tre stelle ragazzi Ma non riesco a farne quattro Come si fa ad averne quattro Perché tre stelle ci si arriva easy Ma alla quarta è più difficile No raga Venite qua Venite qua che vi aspetto La le ho presi Mamma mia che tipa Che c'era lì No vecchio Che cosa vuoi fare Vuoi spararmi per caso Ti carica No No Mi hanno ucciso Stronzi Ragazzi Io Direi che possiamo concludere qua il video Perché comunque volevo fare solo un video così easy Un po' random Per farvi vedere un po' GTA 5 Sulla play 4 Su next gen Io Come potete Come avete potuto vedere Non sono fortissimo Sono ancora un nabbo Anche perché ci ho giocato poco Anche sulle old gen Ci ho giocato veramente pochissimo Quindi ragazzi Magari Prossimo video Inizieremo a fare qualche Boh Qualche missione Così a random Sempre sull'online Così magari Iniziamo un po' a livellare Io spero che il video vi sia piaciuto Volevo solo farvi vedere un po' di Sparatorie Così a random Per parlarvi anche un po' del gioco Io spero che il video vi sia piaciuto Sinceramente Mi raccomando Lasciate un bel like E Commentatemi questo video Scrivendomi magari Alcune cose da fare su GTA Perché io proprio veramente Ve lo dico sinceramente Sono abbastanza nabbo Quindi Tanti commenti qua sotto Sul video Che voglio sapere Tante cose da fare Mi raccomando Ragazzi Iscrivetevi al canale Se non l'avete ancora fatto Con questo io vi saluto ragazzi Ci vediamo al prossimo video Ciao 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 Grazie a tutti per aver guardato il video.